neanche il tempo per microsoft di fare uscire la ultima build ovvero la 24 h2 di windows 11 che grazie a roccambolesche avventure come vedrai siamo riusciti a farla funzionare anche sui pc che non possiedono i requisiti come se questo non bastasse questa build è installabile senza la necessità di formattare il computer e quindi consentendoti di mantenere intatti tutti quanti i tuoi programmi ma soprattutto tutti quanti i tuoi dati e funziona sia su windows 11 naturalmente che anche su windows 10 cosa puoi volere di più e allora allaccia le cinture perché se ti senti pronto iniziamo questa mattina stavo lavorando su un server di un cliente che doveva aggiornare il suo sistema operativo che con windows 11 24 h2 non c'entra assolutamente niente tuttavia si trattava di installare un sistema su un server che non aveva i requisiti e il cliente purtroppo ci teneva tantissimo ad avere l'ultima versione così ho fatto un'operazione che abitualmente si fa sui server in quel momento mi è venuto un lampo di genio ho detto stai a vedere che questa cosa funziona anche su windows 11 24 h2 non stavo nella pelle ma dovevo finire quel lavoro così ho scritto su un forum via telefono e un paio di colleghi mi hanno confermato di aver effettuato il test e che effettivamente questa procedura funzionava e così mi sono fiondato in laboratorio appena finito l'ho provato su tre macchine due delle quali non avevano i requisiti e una come il sistema che utilizzeremo oggi utilizzava addirittura windows 10 e l'operazione è andata perfettamente a buon fine e quindi sono qui a presentartela anche perché veramente non vedevo l'ora ma prima di cominciare non dobbiamo dimenticare il nostro rituale apotropaico per calmare le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va prima di cominciare una precisazione necessaria per eseguire queste operazioni ti servirà un bel pendrive quindi tienilo da parte perché ci servirà molto a breve ma nel frattempo apriamo il nostro browser su questa macchina non ho chrome quindi andremo con microsoft edge e al suo interno digitiamo download iso windows 11 effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al dominio microsoft questo qui www.microsoft.com nella voce che dice scarica windows 11 portiamoci quindi su questa pagina e scendiamo un pochino più in basso dove ci dice crea il supporto di installazione per windows 11 arrivati qui clicchiamo sul pulsante scarica ora e vedremo che il nostro media creation tool viene scaricato sul nostro dispositivo a questo punto clicchiamo su apri file acconsentiamo che vengano apportate modifiche al nostro sistema e potremo chiudere la pagina del browser che non ci serve più è il momento adesso invece di andare ad infilare il nostro pendrive ecco fatto ci viene chiesto di accettare i termini di licenza clicchiamo quindi sul pulsante accetta attendiamo il termine delle operazioni preliminari dopo di che potremo lasciare anzi ti consiglio di lasciare spuntata questa voce ovvero usa le opzioni consigliate per questo pc clicchiamo sul pulsante avanti come vedi la dimensione minima del pendrive da utilizzare è 8 gigabyte selezioniamo unità flash usb e clicchiamo ancora sul pulsante avanti viene rilevato il nostro pendrive che abbiamo appena collegato clicchiamo su avanti e attendiamo alcuni minuti il termine dell'operazione ok la banana l'ho mangiata tutta ma siccome mi sembrava brutto mostrarti la buccia ne ho presa un'altra ma solo pro forma ne ho mangiata una soltanto giuro come vedi la nostra unità usb è pronta e a questo punto ci basta cliccare sul pulsante fine per procedere con le operazioni che ci interessano benissimo la nostra unità usb è pronta a questo punto quello che dobbiamo fare è andare qui in basso ad aprire il nostro esplora file e portarci proprio sull'unità usb che abbiamo appena creato se ben ricordi la mia aveva la lettera f ed ecco qui l'unità preparata direttamente da mamma microsoft con tutti i file che servono per effettuare un'installazione di windows 11 24 h2 normalmente ci basterebbe cliccare su questo file che si chiama setup per lanciare l'installazione o meglio la sovrinstallazione di windows 11 su windows 10 senza bisogno di formattare il pc tuttavia questa macchina non è supportata quindi vediamo che cosa succede se proviamo ad effettuare il controllo integrità pc possiamo digitarlo direttamente qui eccolo qui controllo integrità pc questo con il cuoricino ci dice se il nostro pc è compatibile con l'installazione bada bene non della 24 h2 ma addirittura dello stesso windows 11 se clicchiamo infatti sul pulsante controlla ora verranno effettuati i controlli e come previsto ci viene detto che questo pc non soddisfa attualmente i requisiti di sistema di windows 11 quindi non solo non possiamo installare ribadisco la 24 h2 ma non possiamo installare in linea teorica nemmeno windows 11 su questo pc chiudiamo il nostro controllo integrità e a questo punto torniamo sulla nostra finestra di installazione perché qui dovremo fare una operazione davvero particolare dovremo infatti tornare nel pendrive che abbiamo appena preparato ed al suo interno spostarci in questa cartella quella che si chiama sources facciamo doppio clic per aprirla e dal suo interno dovremo mettere in atto una mandracata che abbiamo imparato proprio in un video di pochi giorni fa nel caso in cui te lo fossi perso te lo lascio linkato qui in alto per il momento ti basta sapere che si tratta di questo dobbiamo portarci qui in alto sulla barra degli indirizzi cliccare all'interno di un punto vuoto qualunque ed al posto di f due punti backslash sources andare a digitare semplicemente cmd premiamo invio e questo ci consentirà di aprire una shell di comandi ovvero un prompt di dos all'interno già del nostro pendrive sotto cartella sources e a questo punto dovremo dare un comando molto particolare molto particolare perché si tratta di un comando destinato solitamente proprio all'aggiornamento dei server come ti spiegavo in apertura del video il comando è questo setup prep spazio backslash product spazio server ma perché sul nostro computer andiamo a lanciare un comando solitamente destinato ai server perché questo comando detto in parole semplicissime consente innanzitutto un'installazione quasi completamente unattended cioè non sorvegliata dall'utente che richiede insomma pochissima interazione da parte nostra ma soprattutto molto più snella e nella fattispecie che va a saltare una serie di verifiche tra cui proprio quella relativa ai requisiti minimi per installare sia windows 11 che windows 11 24 h2 nella fattispecie premiamo quindi invio ci viene richiesto di accettare con il pulsante sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo dopodiché ci verrà richiesto di installare windows server nessuna paura il computer crede che noi stiamo installando una versione server ma in realtà stiamo installando una banalissima 24 h2 in questo caso su windows 10 clicchiamo sul pulsante avanti per proseguire attendiamo qualche minuto o qualche secondo dipende dei casi questo che vengano effettuate alcune operazioni di ricerca degli aggiornamenti disponibili più le solite operazioni esoteriche riservate a microsoft a questo punto potremo accettare le condizioni di licenza scegliere cosa importantissima di conservare se lo desideriamo i file le impostazioni e tutte quante le nostre app altrimenti potremo scegliere di mantenere solo i file personali oppure niente e quindi fare un'installazione pulita perdendo mi raccomando in quel caso tutto quanto il nostro contenuto ma se vorremmo salvare tutto quanto ci basterà tenere spuntata la prima voce e cliccare sul pulsante avanti ci viene richiesto di attendere alcuni minuti cosa che faremo pazientemente eccoci qua tutto è pronto per la nostra installazione a questo punto clicchiamo sul pulsante installa e attendiamo il termine di questa operazione che potrebbe essere piuttosto lunghetta ed ecco fatto questa volta la banana l'ho finita scusami windows 11 24 h2 è installato sul nostro sistema non ci credi andiamo a vedere andiamo a digitare win r scriviamo win ver premiamo invio ed ecco qua microsoft windows versione 24 h2 installato su macchina non supportata nemmeno da windows 11 a partire da un windows 10 e soprattutto mantenendo i nostri file ma saranno stati mantenuti questi file per scoprirlo andiamo a controllare la cartella download dove dovrebbero essere presenti i due file appunto che ho scaricato per l'installazione per fare il check di compatibilità con windows 11 quindi direi esame superato come ho detto in apertura ho provato questo metodo solo su una manciata di macchine anche perché francamente non vedevo l'ora di presentartelo naturalmente si tratta di un metodo che non ha assolutamente nessuna controindicazione si usano solo ed esclusivamente strumenti forniti direttamente da microsoft e comunque tutte quante le prove avremo modo di farle in community nella chat e naturalmente anche nei commenti ti prego quindi di farmi sapere le tue impressioni e le tue esperienze in merito ti ricordo che il la stringa il comando da utilizzare te lo lascio anche nella descrizione di questo video e quindi se vuoi puoi fare un copia e incolla direttamente dal comando che ti lascio qui sotto ma veniamo ai ringraziamenti del giorno perché quest'oggi devo ringraziare il dottor andrea militello oino 2 giovanni jazzetta giovanni menegaldo daniele di stefano fulvio cappelli e daniele receconi che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini e quindi vi do di buon grado il benvenuti o il ben rimasti a bordo ma un ringraziamento speciale è quello che devo rivolgere a dark player 84 tv l eccetera insomma al nostro caro amico darti che ha sì rinnovato il suo abbonamento ma lo ha fatto in qualità di distinto gentiluomo e quindi caro darti è un vero piacere ed un onore togliermi il cappello farlocco davanti a te ma non basta perché quest'oggi dobbiamo ringraziare anche giuste pennatino mimmo langiano i gatti di brascello e giorgio brusasco per i loro generosissimi super grazie e quindi cari ragazzi a tutti quanti voi i miei più sentiti ringraziamenti anche da parte della community per il vostro affetto e la vostra vicinanza ma manca ancora un ringraziamento e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento come di consueto alla prossima